Albano Carrisi ha rivelato come ha conosciuto Loredana Lecciso. Il primo incontro? La trovavo strana. Tutta colpa di Artista affermato. Voce unica. Albano ha festeggiato da poco 80 anni. Il cantate è stato celebrato dai suoi fans e dagli amici più cari. Oltre che dalla sua famiglia all'Arena di Verona dove è stato organizzato un concerto speciale. Oggi legato a Loredana Lecciso i due stanno insieme da più di 20 anni. Hanno avuto due figli. E hanno superato più di una crisi. Quando Albano ha incontrato Loredana era reduce dal fallimento del matrimonio con Romina Power e stava vivendo un momento personale difficile. Caratteri entrambi forti e determinati. Albano e Loredana si sono battuti per salvare la loro famiglia e sono oggi una coppia ancora affiatata e innamorata. L'Alecciso ha saputo stare accanto ad un uomo importante. Con alle spalle un passato non facile. Ma non ha scelto di stare in ombra. In una recente intervista rilasciata al settimanale in famiglia il cantante pugliese ha parlato degli inizi difficili della sua carriera e della prima volta che ha visto Loredana. Senza dimenticare il suo percorso di vita privata e professionale accanto a Romina Power. Anche oggi che è un artista affermato. Albano non dimentica quanto è stato difficile trovare il suo spazio nella musica. Prima di cantare ha fatto svariati lavori. Distribuivo anche volantini fuori dal locale. Successivamente sono passato al dollaro. Un altro ristorante e in un secondo momento sono andato a lavorare in fabbrica alla Innocenti dove, oltre a lavorare, cantavo tutto il giorno. Poi quando è finito in cassa integrazione lavorava la mattina e il pomeriggio si dedicava alla musica. Passo dopo passo è riuscito ad entrare nel clan di Celentano. Albano. La prima volta l'ho vista fuori scuola. Dopo tanti anni insieme. Albano ricorda perfettamente la prima volta che ha visto Loredana Lecciso. L'ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce. Io ho accompagnato le mie figlie e lei la sua primogenita. Ora sono ben 23 anni che stiamo insieme. In 23 anni Albano e Loredana hanno superato due crisi importanti. La prima quando il cantante si trovava all'isola dei famosi con la figlia Romina Junior. L'Alecciso comunicò in diretta al cantante la sua decisione di lasciarlo. Minacciando anche le vie legali. La seconda sembra essere legata alla reunion del cantante con Romina Power sul palco. Un evento che l'Alecciso non ha approvato appieno. A quanto pare tutti i problemi oggi sono stati superati e Albano garantisce che con Loredana c'è stabilità. Amore e passione. Stiamo molto bene insieme e la passione tra di noi non si è mai spenta.